Bene, intanto buonasera, bentrovati, grazie in questa giornata calda di essere qua ad ascoltare queste cose che potrebbero sembrare ostiche e cercherò invece di declinarle in una forma che sia anche godibile, anche se effettivamente il tema è un tema denso, è un tema profondo. Quando Roberto, che è qua, che ringrazio di avermi coinvolta, di avermi invitata, mi ha parlato del tema del festival subito questo ha risuonato perché il termine connessione è un termine che noi, diciamo, psichiatri, psicoterapeuti che amiamo le neuroscienze, mastichiamo parecchio. Però il termine si presta a molte declinazioni e poco fa, quando sono arrivata, c'era su questo palco prima di me un ragazzo che lo declinerebbe in modo molto diverso perché connessione oggi forse risuona molto di più con tutto quello che è il mondo virtuale, l'essere connessi con la rete, l'essere connessi nel web, l'essere connessi nei social, piuttosto che invece in quella declinazione che io ho subito pensato perché appunto è un po' il mio pane quotidiano di psicoterapeuta che ha a che fare con il titolo che poi ho dato a questo intervento. Cioè il tema dell'incarnare una vita, dell'incarnare in un corpo qualche cosa che è una coscienza, che sembra una parola molto tecnica, molto filosofica o teorica, ma in realtà è qualcosa che ci accomuna a tutti quanti per il semplice fatto che ci sentiamo un io, sappiamo di essere qui, ci riconosciamo in qualcosa che seppure il tempo passa cambia il nostro volto, i nostri gusti, le mode, continua a permanere. Da quando noi siamo piccoli a quando siamo grandi o vecchi, continuiamo a sentirci noi stessi, ecco questa coscienza, così la chiamiamo, noi la incarniamo, cioè abbiamo poi un mondo fatto di corpo, di contatto, di volti, di sguardi, di tocchi, di abbracci che sempre più è innegabile viene messo a dura prova da una modalità, da uno stile di vita che è sempre più invaso da un mondo virtuale e che poi negli ultimi due o tre anni è stato ancora di più messo a dura prova da varie misure di confinamento, dalle varie restrizioni che abbiamo vissuto. Allora in un'occasione come questa, in cui siamo qui appunto in un parco, festival, quindi fare festa, i latini dicevano festivalis, cioè qualcosa che si festeggia, che è piacevole, che è un momento di celebrazione, siamo insieme, mi sembrava che davvero porre l'accento su che cosa voglia dire oggi, incarnare questa connessione, poteva essere interessante, perché in realtà, anche se sembra qualcosa forse di lontano dalla vita concreta, invece ha un risvolto importante, perché quando noi parliamo di connessione, a parte appunto indicare la connessione con la rete internet, noi ci riferiamo da un punto di vista proprio tecnico, diciamo così, del neuroscienziato che si occupa di attaccamento, di emozioni, di sviluppo, di educazione anche, certo, di mondo dei piccoli, che noi grandi ci troviamo a far crescere, quando lo guardiamo da questa prospettiva, connessione ha a che fare con un bisogno antico, un bisogno primario, che è persino più forte di quelli che per noi sono i bisogni primari, come noi li intendiamo, quindi nutrirci, essere scaldati quando siamo piccoli e protetti, cioè un esperimento degli anni 50 del secolo scorso di un certo Harlow, le sue famose scimmiette, lui prese tre gruppi di scimmie appena nate o nate da poco, un gruppo rimase con la madre, un gruppo venne allontanato e non fece più ritorno dalla genitrice e fu messo in una gabbietta dove c'era soltanto un erogatore di latte, un altro gruppo fu allontanato e venne messo in una gabbietta dove c'era un erogatore di latte e accanto c'era un panno che doveva simulare il corpo peloso, caldo della madre, un altro gruppo venne messo, un altro gruppo ancora, venne messo in una gabbietta dove c'era questo stesso erogatore di latte, però ricoperto dal panno a simulare, diciamo così, una specie di madre sostitutiva. E poi invece un altro gruppo fu preso, allontanato e poi riavvicinato alla madre. Insomma, voi penserete che quelle scimmiette a cui le cose sono andate meglio sono quelle che non sono state allontanate, verosimilmente dalla madre. In realtà non è esattamente così, quelle a cui le cose andavano meglio erano quelle che subivano un momentaneo allontanamento ma poi facevano ritorno. Perché la riparazione, la possibilità di scoprire che io posso anche incontrare una difficoltà, un imprevisto, ma poi ci può essere un ritorno, ci può essere un lieto fine, diciamo così, era l'esperienza che costruiva quella che noi oggi chiamiamo la resilienza, cioè la capacità di far fronte agli imprevisti della vita mantenendo, preservando una sorta di forza interiore. Però i tre gruppi che invece stavano nella gabbietta erano quelli più interessanti per Harlow. Uno in particolare, insomma va da sé che quelle che avevano solo l'erogatore metallico di latte non se la passavano benissimo a parte nutrirsi. Quelle che avevano l'erogatore ricoperto di panno, cioè quello che simulava la madre il più possibile, insomma, in una forma vicina a quella che poteva essere la madre naturale, stavano meglio. Però il gruppo più interessante era quello delle scimmiette che avevano a disposizione le due possibilità, quindi l'erogatore metallico di latte e viceversa il panno. Perché noi potremmo pensare che effettivamente il loro bisogno primario di nutrirsi facesse sì che loro stessero attaccati all'erogatore di latte. In realtà Harlow si accorse che queste scimmiette stavano tutto il tempo attaccate al panno caldo e solo per pochi istanti si staccavano per andare a prendere il latte. Quindi il loro bisogno primario non era quello di nutrirsi con il latte, ma era quello di nutrirsi di altro, di un contatto, di una relazione fatta di prossimità, di tocco, di calore, di presenza. E questo bisogno noi lo chiamiamo, diciamo noi appunto quelli gli addetti, no? Che bazzicano i passaggi delle neuroscienze affettive, lo chiamano connessione. Cioè l'idea che noi arriviamo a questo mondo, a questa vita, non come delle monadi separate da tutto, ma fin dal primo giungere, quello nel ventre di nostra madre, noi stiamo all'interno di una relazione che è fatta primariamente di corpo, anche se non è solo corporea. Noi sappiamo dalle neuroscienze quantistiche, cioè da tutti quei filoni della fisica quantistica applicati alla biologia, che al di sotto del nostro corpo, della sostanza di cui siamo fatti, della biochimica che regola i nostri ormoni, il nostro metabolismo, il nostro sistema immunitario, poi c'è una biofisica, cioè c'è un'energia. Qualcuno la chiama vibrazione, qualcuno la chiama risonanza, ma del resto lo sanno i poeti. Qualcuno diceva siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Ecco, la connessione, da un certo punto di vista, è un ponte tra questi aspetti sottili, impalpabili, materiali, vibrazionali e la materia. Perché la connessione è fatta, prima di tutto, di uno spazio di incontro che dovremmo ricevere fin dall'inizio. magari ancora prima che nostra madre sappia che ci porta in grembo. Perché magari ha pensato alla possibilità, insieme magari al suo compagno, anche all'interno di un nucleo familiare, alla possibilità che arrivi una nuova vita. e quindi ha fatto spazio, diceva Winnicott, grande studioso dell'attaccamento, ha fatto spazio prima di tutto nel suo cuore, poi nella sua mente, e poi nel suo corpo, il suo utero, si è reso casa per una vita che arriva. Quando parliamo di connessione, noi parliamo di tutto questo. Quindi parliamo del fatto che quando noi arriviamo, noi arriviamo a prendere un posto. E le cose vanno molto diversamente, se questo posto ci viene dato, ci viene riconosciuto, viene preparato in qualche modo, o anche se non ci è riconosciuto e non è stato preparato, a un certo punto però veniamo accolti. perché abbiamo detto, in realtà, l'imperfezione può essere addirittura un punto di forza se viene riparata, persino migliore della perfezione, dove non è successo niente di avverso alla nostra storia. Le cose vanno molto diversamente, perché le ricerche di epigenetica e di neuroscienze ci dicono che se noi arriviamo in un campo nel quale siamo attesi, siamo accolti, ripeto, anche con difficoltà, anche con paura, anche con mille dubbi, ma comunque a un certo punto lo spazio per noi viene reso disponibile, questo ha un impatto a livello del nostro sistema nervoso, perché il nostro sistema nervoso è in risonanza con il sistema nervoso della madre, con le sue emozioni, che regolano chiaramente anche il suo assetto metabolico, ormonale, immunitario, ed è ovviamente a sua volta collegato al sistema emotivo del padre, poi utilizzo madre-padre nel senso archetipico, quindi non entro nel merito di quelli che possono essere gli orientamenti di genere necessariamente, parlo di archetipo materno, archetipo paterno, nel senso più inclusivo possibile. È diverso se noi arriviamo in un campo nel quale effettivamente questo posto è stato reso disponibile oppure no. Oggi l'epigenetica ce lo racconta, ci dice che se noi arriviamo con questo tipo di campo, o questo campo ha superato le sue difficoltà per rendere disponibile questo spazio, la nostra forza vitale, cioè quello slancio che noi vediamo nei nostri piccoli, la loro energia, viene preservato, anzi viene esaltato, viene reso libero di esprimersi. E noi abbiamo la possibilità di stabilire un attaccamento con la vita e con il nostro mondo sano, buono, che corrisponde a una regolazione del sistema nervoso, che oggi è ben studiata dai neuroscienziati, attraverso la teoria polivagale, attraverso tantissimi studi di neurofisiologia dello sviluppo. Il nostro sistema nervoso si regola in una maniera buona, quindi è in grado di sostenere lo stress, cioè di sostenere le normali prove della nostra vita senza disorganizzarsi. si ritiene che la possibilità che questa connessione sia buona, sufficientemente buona, durante la gestazione e i primi sei mesi di vita, quindi in un intervallo veramente molto, molto precoce della nostra vita, se la connessione in questo intervallo è buona, noi abbiamo un potenziale di sviluppo che sicuramente è più forte, più resiliente per l'individuo che verrà. Le fondamenta di quella persona sono sicuramente più salde. Allora, questo in un festival dell'educazione è importante da conoscere perché noi possiamo fare moltissimo come individui, come genitori, come nonni, come zii, come fratelli, come sorelle, come insegnanti, come medici, come terapeuti, non soltanto nella nostra famiglia o nel nostro microcosmo, ma proprio nel trasformare un modo di porsi e forse anche nel recuperare delle radici alla luce della modernità che però sono antiche. In tutte le civiltà, in tutte le culture viene sancito un rito di accoglienza di chi è nato. Il battesimo, per chi è, diciamo, di un background cattolico, ma anche tanti altri riti che sanciscono che cosa? Il fatto che è arrivata una vita e che c'è uno spazio per quella vita per stare qua insieme. Come voi avete uno spazio per sedervi qua per ascoltarmi. si sancisce che questa vita che arriva ha un posto e ha diritto di esserci, ha diritto di stare qui per il solo fatto che arriva. Quindi pensate anche al risvolto civile, etico di questa visione. al tempo stesso, se questo non è effettivamente fluito come dovrebbe, rimangono delle impronte. Così noi abbiamo degli individui che magari hanno la sensazione non patologica, perché qui non stiamo parlando di diagnosi, queste sono impronte di nascita. Hanno la sensazione di non appartenere al mondo, si sentono estranei, si sentono alieni, si sentono fuori posto, non amano stare nei gruppi, cercano di stare isolati, si domandano che senso ha il loro essere qua e non lo sanno. Ecco, è possibile che ci sia un'impronta a questo livello. Chiaramente non è l'unica, perché poi dopo i sei mesi di vita succedono tante altre cose nella nostra vita. Però gli studi di neuroscienze dell'attaccamento hanno trovato delle correlazioni, addirittura delle correlazioni tra le alterazioni del sistema immunitario, nel senso della autoimmunità, cioè della presenza di fattori che segnalano un attacco, un'aggressione del sistema immunitario verso il self, verso il sé, in persone che hanno una storia di traumi dell'attaccamento precoce, in particolare prima dei due anni di vita. Quelli che vengono chiamati dall'OMS i mille giorni d'oro, cioè mille giorni a partire dal concepimento, quindi il tempo della gestazione, i primi due anni di vita extrauterina, in cui l'OMS riconosce che vengono poste le fondamenta per l'individuo che verrà. E queste fondamenta ruotano in maniera centrale attorno al tema della connessione, cioè la possibilità di essere in un campo accogliente, sicuro, soprattutto nel quale il contatto e la sintonizzazione tra campo e nuovo individuo è abbastanza, sufficientemente buona. Ma il tema non riguarda soltanto questa fase, perché, per fortuna, la buona notizia è che anche qualora rimanessero, sopravvivessero delle impronte di quel tempo in cui magari appunto le cose non sono andate proprio tutte lineari e perfette, noi abbiamo un grandissimo potenziale trasformativo in tutta l'età dell'infanzia, prima e seconda infanzia, fino all'adolescenza, perché abbiamo dei soggetti, degli individui plastici nei quali il sistema nervoso, il sistema emotivo, la crescita, lo sviluppo psicofisico è tutto in fieri. Pensate che intorno all'anno e mezzo circa, a livello neuronale, avviene un cosiddetto pruning, cioè un taglio di una serie di rami, di ramificazioni che i neuroni a livello del sistema nervoso producono come espansione del potenziale, come infinite possibilità di sviluppo. Avviene un primo taglio che deve cominciare a definire un carattere, un modo di porsi di quel bambino o di quella bambina. E poi l'altro grande pruning cioè l'altro grande taglio, la potatura, avviene più o meno nell'età prepubere, tra la prima pubertà e l'inizio dell'adolescenza. Allora noi abbiamo veramente un ventaglio proprio, un margine di possibilità di riparazione, di trasformazione di impronte che ripeto non sono ancora patologia e non vanno intese come tali, sono proprio vestigia di una storia, sono testimonianze di una storia sulle quali noi possiamo incidere. E come possiamo farlo? Possiamo farlo sempre attraverso la connessione, cioè andando a curare, a prenderci cura della relazione, quella che non passa da solo, da comunicazione, interessante il lapsus, prima purtroppo la deformazione professionale della psicoterapeuta, tra educazione e comunicazione c'è una grande differenza, perché nella comunicazione soprattutto oggi noi forse facciamo più informazione che d'altro, cioè immettiamo conoscenze, informiamo, facciamo un'azione nel quale diamo una forma e quindi vorremmo plasmare l'altro in un certo modo, mentre nell'educazione, dal latino educere, trarre fuori, noi portiamo alla luce un potenziale che già c'è. Allora in tutto questo intervallo dal concepimento, forse addirittura dal preconcepimento, fino all'adolescenza, noi abbiamo la possibilità di una trasformazione che però è data, è mediata, soprattutto da quanto quell'individuo può vivere o entrare almeno in rapporto, fare l'esperienza con un campo sufficientemente connesso con lui o con lei, cioè sufficientemente in grado di dargli un senso di sicurezza, dove per sicurezza noi intendiamo l'idea che io posso esprimermi per come mi sento, per come penso, sapendo di essere abbastanza tranquillo, di poter essere accolto, di non essere attaccato o rifiutato per come mi sento e per come sono. È un campo che si può sintonizzare con i miei bisogni, che non vuol dire che i miei bisogni verranno soddisfatti tutti. Abbiamo detto che quelli allontanati dalla mamma e poi riportati alla mamma erano più forti degli altri. Quindi è un campo che può anche gestire le mie frustrazioni ma che mi garantisce il fatto che i miei bisogni siano incontrati, cioè vengano ascoltati. Non è detto che verranno soddisfatti ma hanno un posto, possono essere detti, possono essere pensati. Allora come società, visto che qui siamo anche in un luogo pubblico, finalmente riabitiamo degli spazi pubblici dopo tutto il problema covid, questi sono spazi che non sono solo luoghi nel senso fisico del termine, sono luoghi interiori o possono diventarlo, sono luoghi dove appunto possiamo portare qualcosa di noi e questo fa la differenza a livello del sistema nervoso. Gli studi di neuroscienze ci dicono che il cervello si sviluppa meglio anche dal punto di vista cognitivo oltre che emotivo in un campo sicuro dove c'è connessione. Ci dicono che la risposta allo stress è migliore, cioè noi siamo più capaci di gestire lo stress, ci dicono che i tassi di cortisolo lo sapete l'ormone dello stress che poi produce infiammazione cronica e quindi alla lunga il rischio aumentato di malattie neurodegenerative, oncologiche, infiammatorie, ecco il tasso di cortisolo è più basso in chi sta in uno spazio di connessione. Quindi abbiamo veramente in mano un concetto trasversale potentissimo da applicare e al tempo stesso diamo uno sguardo però a quello che sta succedendo alla deriva in cui noi ci troviamo. Leggevo proprio pochi giorni, due o tre giorni fa che adesso sarà al via la sperimentazione sugli umani di Neuralink. Sapete che Neuralink è questa tecnologia che utilizza materiale biologico per costruire un'interfaccia uomo-macchina prodotta da Elon Musk con la possibilità di impiantare dei chip a livello cerebrale che permettano una connessione diretta con un'intelligenza artificiale con un intento diciamo umanistico o transumanistico anche comprensibile forse anche non cattivo per esempio ridare la vista a persone che non vedono aiutare persone che sono paralizzate a muoversi c'è questa idea che l'uomo persegue da sempre pensate a Frankenstein Mary Hainsworth magari molti non sanno che lei scrisse Frankenstein dopo che aveva perso una figlia e chiamava Frankenstein il suo figlio mostruoso nella sua fantasia l'idea di superare la morte non è forse questa la possibilità che tutti si sono sempre domandati si potesse raggiungere superare il nostro limite fatale quindi l'intento può essere anche interessante ripeto umano troppo umano avrebbe detto Nietzsche però ci dobbiamo interrogare dal punto di vista etico antropologico su come gestire tutto questo perché la connessione di cui parliamo oggi la connessione diciamo futura o futuribile ma già quasi presente perché tra sei mesi ci saranno i primi impianti in esseri umani beh non è quella di cui ho parlato io non è quella di cui ho parlato rispetto al tema dell'incarnazione non è quella del panno caldo a cui io mi attacco come al corpo di mia madre o di mio padre o di mia nonna o della persona che mi cura non c'entra niente con questo è completamente sganciata da quella dimensione di fisicità di sensorialità a meno che non vogliamo intendere una sensorialità e una fisicità soltanto per ciò che noi percepiamo all'interno ma è davvero così cioè è vero che l'intelligenza artificiale finirà per soppiantare questa dimensione che la connessione diciamo virtuale soppianterà la connessione incarnata è vero? molti pensano di sì molti si allarmano su questo è vero che probabilmente l'intelligenza artificiale sostituirà molti dei lavori adesso mi ha presentata e la ringrazio una giornalista i giornalisti insieme ai bancari e agli avvocati sono tra le professioni che secondo gli sviluppatori dell'intelligenza artificiale verranno soppiantate tra le prime hanno fatto un esperimento interessante hanno preso 19 giornalisti hanno dato una notizianza hanno chiesto di redigere un articolo e poi c'era una commissione che decideva qual era il migliore e hanno scelto uno tra questi articoli solo che hanno scelto di quei 19 quello scritto dall'unico giornalista che non era incarnato cioè era un'intelligenza artificiale che ciliegina sulla torta per scrivere l'articolo ci ha messo un secondo non so quanti di voi vadano in banca ancora di persona ma sapete che molte delle operazioni della banca non si fanno più in banca quindi questo sembra il futuro ma è veramente così cioè veramente non avremo più necessità di incarnare la connessione beh in realtà ci sono scienziati non antropologi filosofi psicanalisti scienziati come per esempio Rasetti che è qua a Milano si occupa di big data 200.000 euro all'anno per acquistare dati da twitter su cui fare analisi lui dice che dovreste farvi pagare se twittate almeno un centesimo a tweet perché loro lo pagano aperta e chiusa parentesi Massimo Rasetti Federico Faggin Giacomo Dariano Università di Pavia beh Faggin lo conoscerete tutti il padre del microprocessore in silicio che dicono che l'idea che l'intelligenza artificiale soppianterà questo tipo di connessione incarnata è falsa il problema è solo se le persone ci crederanno quindi io cerco di far sì che appunto le persone non ci credano perché? per un semplicissimo fatto a parte che i computer e l'intelligenza artificiale li abbiamo creati noi quindi sono programmati da noi e il loro algoritmo non sa che cosa vuol dire sentire l'abbraccio della mamma della nonna del papà dello zio non sa cos'è il profumo che qua gira nel parco di fiori o di zucchero filato ma anche perché in realtà questi sistemi non hanno una cosa fondamentale che è quella che mi piacerebbe poi lasciarvi in chiusura di questo mio discorso di questa mia riflessione quella che viene chiamata singolarità cioè unicità dell'esperienza cioè non sanno in alcun modo distinguere possono avere un un algoritmo per il profumo della rosa ma non saprebbero mai dire com'è odorare il profumo della rosa oltretutto le neuroscienze ci dicono che quando io vado a vedere quei fiori e li annuso e magari lei lì di fronte fa la stessa cosa sullo stesso fiore siamo nello stesso momento nello stesso contesto la mia percezione del profumo non è sovrapponibile alla sua ma questa noi la chiamiamo singolarità non è riproducibile non è clonabile non è privata è privata e non è condivisibile ed è ciò che ci definisce nella forma più profonda ed è esattamente quello che ha a che fare con la connessione nel senso incarnato del termine cioè nel senso di essere qui perché sono proprio io e mi viene dato un posto perché sono arrivato e non sono intercambiabile con nessun altro allora pensate che gli studiosi dei sistemi quantistici cioè quelli che stanno al di sotto della materia si sono accorti che questi sistemi che non sono computabili non si possono misurare tu non puoi misurare contemporaneamente la posizione e la massa di un fotone di un pacchettino di luce non puoi ce lo dice la fisica quantistica è indeterminato bene questi sistemi che lavorano dentro di noi a livello del DNA degli enzimi delle proteine questi sistemi hanno una forma ovviamente non riproducibile come la nostra di autocoscienza hanno una forma di libero arbitrio quindi al di sotto di noi c'è un assetto biofisico in cui questi lampi di luce che si vedono nel nostro cervello per esempio quando noi pensiamo non sono riproducibili in alcun modo non sono clonabili sono un'informazione che non può essere clonata non può essere copiata allora siamo nel mondo dei fake siamo nel mondo in cui il virtuale può far sembrare una cosa a quello che non è ma non ci sarà mai niente che potrà fare quello che noi facciamo quando siamo effettivamente presenti e siamo noi forse voi non lo sapete ma quando uno spermatozoo incontra un'ovocita all'inizio proprio di tutto il viaggio quando i due si fecondano viene emesso un lampo di luce che è stato misurato no non misurato è stato notato non si può misurare ci sono dei video anche in internet ecco l'idea è questa quella con cui mi piacerebbe lasciarvi poi magari lasciare spazio alle domande alla discussione l'idea è che noi siamo un po' questo lampo di luce che viene dalle stelle tra l'altro il nostro carbonio viene dalle stelle quindi siamo un lampo di stella e a un certo punto qualche modo entra in una dimensione materica solida ma che questo lampo è unico per ciascuno non può essere riprodotto non può essere clonato anche nel mondo dei fake anche nel mondo del virtuale allora credo che qui ci sia il nostro grande potere e credo che ci sia qualcosa da tutelare da proteggere come si è sempre fatto fin dalla notte dei tempi si tramandavano le cose preziose anche se adesso siamo moderni non credo che questo debba cambiare dobbiamo tramandare appunto questa connessione incarnata che passa dall'uno all'altro a garantire l'unicità di chi arriva e poi andrà e di tutti gli altri che arriveranno e poi andranno ma che possono essere diciamo così visti nel susseguirsi delle generazioni ma non sostituiti ecco io mi fermo qua e se ci sono domande sono qua grazie grazie Erika Francesca Poli ti faccio accomodare se vuoi se vuoi bere c'è c'è la tua acqua pronta da lì intanto vi volevo dire che naturalmente è il vostro momento è il momento delle domande del pubblico tra un secondo ci sarà intanto ringrazio tutti i volontari che stanno lavorando qui all'edufest in questi giorni che sono due giorni molto molto intensi per tutti loro due giorni anche chi è arrivato ancora prima andate per alzata di mano e aspettiamo naturalmente le vostre domande e arriverà e arriverà da voi da voi un microfono io qualche domanda me la sono segnata perché la curiosità beh sì intanto tu hai citato il mio lavoro il nostro lavoro è vero ne avevamo parlato ieri peraltro quando parlavamo di chat GPT con un'altra collega abbiamo raccontato come in effetti la nostra sia una professione in cui è difficile ogni tanto capire c'è anche un libro che è stato scritto la scimmia che vinse il Pulitzer peraltro è stato scritto uno degli autori della Genovese mio caro collega che racconta proprio quello che stavi dicendo tu quanto ormai sia davvero però vi rimane secondo me appunto quel compito importante di difendere l'irriducibile è vero è vero è vero assolutamente in un mondo perfetto magari l'intelligenza artificiale ci aiuta a svolgere compiti più semplici che magari poi dopo un po' ecco ci stanchiamo servono magari quando facciamo la gavetta e facciamo i primi pezzi di cronaca dopodiché magari invece possiamo occuparci di altro in modo più io lo dico sempre che io sarei ben felice sinceramente di avere un'intelligenza artificiale che faccia tutta una serie di cose che mi sottraggono tempo alle cose che mi piacciono di più tra cui studiare leggere scrivere giocare ci sono da ballare quindi va benissimo purché non ci si confonda purché non si riduca l'essere umano alla funzione riducendolo alla funzione allora certo l'intelligenza artificiale potrebbe sostituirci ma noi non siamo funzioni io se intanto non ci sono domande ne ho uno sui primi mille giorni di vita che è un tema che chi educa chi insegna chi è un genitore semplicemente si sente citare spesso perché appena si nasce gli viene consegnato magari il kit dei primi mille giorni di vita il pediatra comincia a dire attenzione questi primi mille giorni di vita bisogna memorizzare tutte queste cose fare attenzione a eccetera dall'allattamento piuttosto che poi lo svezzamento ma anche l'attenzione a tutta la parte invece più psicologica e più emotiva tu hai parlato di impronte mi interessa molto questo tema dell'impronta che noi diamo mi hai preso un po' d'ansia da madre la prima sensazione che ho avuto è stata una sensazione di ansia rispetto al nostro lavoro anche perché poi hai parlato di un'età fino all'adolescenza e magari tra noi ci sono anche diversi diversi genitori ma noi educatori insegnanti genitori che cosa possiamo fare affinché quest'impronta sia un'impronta che va verso una direzione bella diciamo così intanto l'ho già detto però ci tengo a ribadirlo si parla di impronte proprio perché si vuole distinguere l'impronta da una patologia quindi quando noi diciamo impronta noi vogliamo proprio intendere il segno che viene lasciato da un'esperienza come le impronte sulla neve vedi le impronte degli animali sulla neve sono passati sono passati di lì quindi non c'è niente di necessariamente patologico secondo punto l'ho voluto dire fin dall'inizio adesso mi è venuto in mente che c'è un film che va giusto bene Gattaca famoso film che prefigura un universo distopico ma insomma non troppo lontano forse da da quello che potrebbe essere tra un po' in cui a un certo punto viene detta questa frase i figli dell'amore sono imperfetti nel senso che certo se tu vuoi controllare tutto probabilmente hai una perfezione hai un qualcosa di programmato però l'amore non c'entra quindi nell'amore è compreso anche l'errore che poi forse non è neanche tale noi consideriamo l'errore qualcosa di sbagliato ma in latino è errare ed errare è viaggiare quindi evidentemente l'errore ti fa errante cioè ti fa in viaggio quindi intanto questi due punti fondamentali poi andando un pochino più sul concreto per fortuna la cosa meravigliosa di noi esseri umani in realtà anche degli animali ma per noi è molto più evidente questo aspetto avendo un assetto proprio differente sia dal punto di vista del nostro sistema nervoso sia dal punto di vista di quell'elemento che ci caratterizza che è il logos cioè l'elemento del linguaggio che a un certo punto nessuno scienziato è mai riuscito a capire come a un certo punto appunto la scimmia parla è stato un esperimento con le scimmie che si immaginava che lasciate lì per cento anni fecero questa proiezione prima o poi avrebbero parlato e non è vero quindi evidentemente c'è un salto di coscienza per cui a un certo punto questo essere stabilisce un livello logico linguistico che da un certo punto di vista è fonte di grande problema perché ognuno di noi ha il suo logos cioè ognuno di noi ha il suo linguaggio cioè ognuno di noi ha la sua visione delle cose e noi non ci comportiamo come un branco di animali che necessitati dall'istinto ripetono un programma ognuno di noi ha la sua visione del mondo e vuole perseguire la sua quindi il logos è fonte ovviamente di polemos cioè di un conflitto però è fonte anche di dialogos quindi noi abbiamo tutta una serie di aspetti che ci rendono unici e che ci rendono estremamente plastici allora la buona notizia è che queste impronte sono sempre trasformabili anche in età adulta perché tra l'altro non risiedono nella nostra memoria narrativa noi non possiamo raccontare se adesso ti chiedo tu come sei nata magari hai racconti della mamma ma in realtà ti sembra di non saperlo in realtà nel nostro corpo ci sono delle memorie che noi chiamiamo preverbali quindi che sono prima di quel logos che però poi ci permette di elaborarle e che possono essere portate alla luce e che il corpo mantiene per sempre diciamo per lo meno finché siamo qui incarnati e che possono essere fatte emergere possono essere trasformate e chi vive questo lo so perché me ne occupo può testimoniare proprio il cambiamento della forza vitale dell'energia che sente dopo che ha incontrato queste impronte che peraltro io sono andata a studiare quando aspettavo mia figlia quindi ero in attesa della mia bambina e insomma cosa volete che faccia la psicoterapeuta per prepararsi studia chiaramente no facevo anche altre cose facevo yoga facevo canto facevo tutte cose che appunto erano anche legate alla connessione più fisica però studiavo e quindi mi sono imbattuta in tutti questi studi di psicologia pre e perinatale mi sono appassionata poi quando è nata mia figlia ho voluto anche un po' sperimentare insieme a lei mi sono accorta del grande potenziale che avevano e quindi dopo qualche mese dalla sua nascita mi sono iscrita a questo corso e dopo tre anni mi sono diplomata ho aggiunto un altro tassello e adesso lavoro anche sulle impronte è un lavoro bellissimo perché puoi effettivamente portare alla luce qualche cosa che la persona sente e sa pur senza sapere di averla dentro poi dal punto di vista degli educatori di chi non fa voglio dire quel tipo di percorso la parola chiave è sempre una cioè presenza cioè l'essere il poter essere qui con te con ciò che c'è che è in realtà un attributo più che della mente è un attributo del cuore non inteso in senso retorico sentimentale il cuore proprio inteso come secondo cervello forse come primo cervello il cuore è un cervello a tutti gli effetti ma a differenza del cervello che pensa pensieri il cuore sente sentimenti cioè è in grado di stare in relazione allora la parolina magica è quella io non devo essere perfetto soddisfare tutti i tuoi bisogni non avere fatto errori non avere compiuto disattenzioni perché tra l'altro non è possibile ma io posso stare qua insieme a te con quello che c'è avendo il cuore sufficientemente aperto per stare con quello che c'è anche se quello che c'è è scomodo anche se quello che c'è è difficile anche se rispetto a quello che c'è non ho una risposta il momento in cui noi sappiamo curare la relazione in questi termini il campo cambia diventa un campo sicuro perché l'altro sente che tu sei con lui o con lei allora c'è una sorta di connessione appunto profonda che permette la trasformazione o comunque un'evoluzione beh continuerei a parlare ecco c'è una mano alzata bene sì sì prego arriva il microfono arriva il microfono eccoci la domanda è personale naturalmente sono una nonna se mio nipote non è stato accolto come si deve dalla mamma perché aveva altre aspettative oppure non lo so voleva la famiglia del mulino bianco ad esempio è sufficiente che le altre persone intorno a lui i nonni il papà lo accettino così com'è o il fatto che la mamma ha questi problemi diciamo e non lo accetti così com'è il bambino non riesca a superare diciamo il il disconoscimento della mamma allora intanto il bimbo il bambino sicuramente ha diritto diciamo a tutte le risorse che il campo possa mettere in atto perciò non non andrei a vedere che cosa è sufficiente o insufficiente non mi farei non mi porrei forse questa questione ma indipendentemente che sia sufficiente o meno come a scuola uno dice ma tu punta a prendere nove così al limite prendi sette non puntare al sei quindi non porrei la questione nei termini di che cosa è sufficiente ma cercherei di mettere in campo per questo piccolo tutte le risorse possibili che il campo può avere però da anche da terapeuta ma direi forse anche da donna prima ancora c'è un'altra persona che in questo campo ha bisogno di tutte le risorse che è la mamma nel senso che se la mamma si priva si è privata della diciamo così dell'esperienza del dono che può arrivare dal diventare madri vuol dire che ci sono dei temi che lei porta delle impronte delle difficoltà che certo non sono belle certo magari la mettono in una luce non buona non simpatica non condivisibile ma che non andrebbero chiaramente giudicate anzi andrebbero guardate come una fragilità da accogliere quindi io credo che qua il grande passaggio sia quello di mettere in campo anche delle risorse per lei la quale potrebbe anche non volerle ma proprio per il tema dell'energia della vibrazione che ormai possiamo sdoganare cioè possiamo tranquillamente dire che noi siamo di fatto delle unità emotivo-energetiche dotate chiaramente di un corpo ma con un elemento vibrazionale al nostro interno lei sentirà indipendentemente che la sua coscienza egoica il suo io le accetti o meno quindi l'attitudine del campo deve essere quello anche di proteggere la madre perché se la madre è entrata in quella dinamica si sta privando di qualcosa di meraviglioso ed evidentemente se fa questo c'è un profondo sabotaggio interno che andrebbe guardato con grande compassione quindi il bambino ha diritto a tutte le risorse però bisognerebbe stabilire una connessione anche con la mamma indipendentemente che la mamma la voglia o meno una connessione interiore abbiamo altre domande eccoci andiamo in terza fila dottoressa vorrei farle questa domanda che è duplice la prima se mi può spiegare di nuovo il concetto del ritorno cioè le scimmiette un gruppo di scimmiette viene allontanato e poi ritorna mi piacerebbe molto sentire questo aspetto e l'altro aspetto è capovolgere la situazione cioè la scimmietta X viene allontanata dalla mamma e fa determinate cose per quello che le è venuto a mancare vuole sentire il suo parere dalla parte della mamma alla quale tolgono i bambini fino a tre anni che cosa produce questo quale sono le dinamiche psicologiche sulla madre ecco tutto questo concetto qui quindi sono due le domande la prima e la seconda grazie allora posto che ovviamente sono due domande che insomma potrebbero aprire una discussione lunghissima quindi io dirò qualcosa di indicativo degli spunti e quindi necessariamente non esaustivi sulla prima direi che è più semplice nel senso che semplicemente qui si tratta di una dinamica di riparazione quindi nel momento in cui avviene la frustrazione della separazione e quindi si aprono tutta una serie di stati di stress di quella piccolo cucciolo di scimmietta che viene allontanato quindi viene esposto alla privazione del contatto della rassicurazione tra l'altro chiaramente la madre così anche per i cuccioli di uomo la madre è l'individuo che ha il massimo impatto di regolazione dello stress sul piccolo per il semplice fatto che il piccolo è stato per nove mesi nel corpo della madre ne conosce il timbro della voce ne conosce l'odore ha una una connessione speciale con la madre quindi questi piccoli di scimmia chiaramente allontanati dalla madre vanno in stress e quindi hanno tutto un coté anche di sintomi che segnalano l'attivazione di una risposta da stress prima con un'attivazione proprio di reazione espressiva fino poi all'annichilimento cioè alla disconnessione l'animale che a un certo punto si finge quasi morto perché non ha più risorse da mettere in campo ma nel momento in cui dopo aver attraversato questa esperienza che avrebbe detto Melanie Klein è proprio quella dell'annichilimento del poter perdere progressivamente la vita che non viene ovviamente pensata ma viene sentita nel corpo se vengono riavvicinati alla madre ritrovano il contatto il calore l'odore e quindi scoprono che è possibile sopravvivere a una frustrazione seppur grande sopravvivere ad un pericolo seppur quasi a rischio della vita e poi ritornare in uno stato di benessere e quindi questo lascia una traccia di resilienza tale per cui cresciuti di fronte a uno stress di fronte a una frustrazione di fronte a una mancanza non entrano in un'impotenza ma entrano eventualmente in una condizione nella quale possono regolarsi meglio perché l'hanno già sperimentata quindi c'è una traccia di apprendimento nel fatto che ci si può anche trovare in una situazione che sembra disperata in cui non si sa che cosa fare e non c'è via d'uscita e invece poi questa situazione può cambiare questo tra l'altro è anche nelle impronte fisiologiche della nascita perché quando il bimbo o bimba impegna il canale del parto nella primissima fase è il bimbo che dà origine alle contrazioni poi l'utero risponde a quel punto parte tutto il travaglio ma all'inizio la cervice è chiusa quindi il bambino si trova a spingere dove non c'è uscita e quindi sperimenta questo l'aveva capito Groff sono le matrici di Groff sperimenta proprio la sensazione di una strada senza uscita un vicolo cieco ma poi la cervice si apre e quindi anche se tu sei stato nella situazione in cui non potevi fare nulla non c'era nulla che potevi fare per cambiare quella situazione se tu sei rimasto lì e sei stato in grado di resistere poi la situazione si trasforma quindi è già un'impronta fisiologica questo dipende no dipende 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 da quanto è stato importante il distacco in che forma è avvenuto quali erano le risorse che erano comunque nel campo eventualmente quando il distacco è avvenuto in che età per quanto tempo come è avvenuta la riparazione non possiamo dirlo per fortuna se no verrebbe meno quell'unicità di cui vi ho parlato ogni storia per fortuna è a sé certo è chiaro che più tempo trascorre nel distacco e in un campo insicuro più grande l'impronta e quindi maggiore poi l'impegno da profondere per ripararla sulla seconda domanda invece quindi tutto il discorso delle madri a cui vengono tolti bambini molto piccoli allora questo è un tema bellissimo e anche drammatico nel senso che si è agito ancora oggi si agisce sulla base di valutazioni della genitorialità che sono di carattere meramente psicologico ma che tengono poco conto di quegli aspetti epigenetici di cui ho parlato e che sono appunto legati al tema della connessione dell'incarnazione della connessione e che sono scritti nel corpo io mi sono trovata perito per il tribunale per la coppia dell'acido non dico niente di nuovo mi hanno intervistata tante volte su questa cosa ma ho ringraziato il cielo o il buon dio a seconda di come uno lo voglia vedere di non essere stata chiamata perito per la valutazione della genitorialità perché sapete che Martina Levato era incinta quando noi la periziamo e poi diede alla luce questo bimbo e i periti che furono chiamati a valutare la genitorialità furono altri e io ringraziai il cielo perché il bambino le fu tolto lei lo partoria la mangia galli e non lo vide neppure ma dal punto di vista epigenetico beh quel campo del suo ventre il suo utero la sua voce i suoi ormoni il suo DNA erano stati il campo in cui questo bambino era nato si era sviluppato era cresciuto per nove mesi e noi sappiamo che quei nove mesi sono fondamentali e poi naturalmente quelli dopo per le sue fondamenta allora qui si apre un problema etico gigantesco che il diritto penale non può risolvere non c'è da fare non ho discusso tante volte con magistrati e avvocati possiamo soltanto cercare di fare la scelta che ci sembra più sensata più garantista più tutelante forse in quel caso certo una madre in carcere con tutte le problematiche che c'erano non era la genitorialità ma il migliore ma sapendo bene che noi introduciamo comunque una decisione diciamo arbitraria che purtroppo non può non può esaurire la complessità e l'unicità di quell'esperienza e a livello epigenetico a livello biologico e neuroscientifico con quello che sappiamo oggi è sempre più complessa da valutare quindi io mi sento di dire che l'unica strada possibile è l'esercizio onesto di un pensiero che sia della mente e del cuore caso per caso meno standardizzazione e più personalizzazione possibile abbiamo un'altra domanda a metà sala prego buonasera grazie la mia è una domanda diciamo da detti ai lavori cioè sono un'insegnante e mi sono sempre misurata con la necessità quando si hanno dei bambini che hanno una disabilità di farli ripensare di farli un po' rinascere nella testa dei genitori ecco se vuole darci un contributo si può dire mille cose mi rendo conto però è importante farleva appunto come diceva lei il tempo è contatto non è contato a volte ci sono piccole parole chiave che autoregolano poi il meccanismo di riappropriazione di questo legame di cui si sente di non meritarsi si sente di essere inadeguati insomma tutto quel meccanismo terribile che noi siamo chiamati in qualche modo a riparare ma in realtà la risposta l'ha già data lei cioè nella domanda lei ha già messo la risposta perché quando lei ha usato quel termine ripensare lì c'è tutto nel senso che di fronte alla disabilità di fronte al bimbo che nasce magari addirittura con una malattia genetica quindi già in una situazione oppure al bimbo alla bimba che poi sviluppa una patologia è capitato negli anni di seguire famiglie dove appunto o era nato il bambino con una problematica già geneticamente determinata dalla trisomia 21 a altre più complesse all'X fragile eccetera oppure i schemie precoci che poi lasciano il bambino appunto con delle disabilità o cose di questo genere quello che ti accorgi che è accaduto è proprio la cesura come se ci fosse uno strappo tra quel grembo psichico che si era venuto a creare attorno a delle fantasie che durante la gestazione fisiologicamente i genitori fanno sul nascituro e la realtà e quindi c'era una specie di iato tra quello che il bambino era le sue risorse le sue possibilità e quello che era invece quello che era stato immaginato con il risultato che il focus era su ciò che mancava su ciò che non c'era su ciò che non era come sarebbe dovuto essere piuttosto che su ciò che c'era e alle volte ciò che c'era era anche di più di quello che i genitori pensavano che fosse ma non c'era quel quel grembo interiore sia della madre che del padre per poter andare a esplorare effettivamente quello che era nella realtà il figlio però chiaramente questo comporta un passaggio fortissimo dolorosissimo di presa d'atto di quella che è la realtà di possibilità di osservare ciò che c'è allora lì ci vorrebbe veramente perché lo sappiamo che non è sempre facile di nuovo non è protocollabile ma lì ci vorrebbe un campo in grado di sostenere questi genitori il più possibile allargato hanno il campo allargato in grado di dare loro quel sostegno per poter guardare la discrepanza tra ciò che avevano desiderato sognato immaginato e ciò che c'è perché poi in realtà questo sguardo che sembra uno sguardo che può portare solo al dolore in realtà porta anche alla scoperta di dimensioni che loro non avevano visto anche se chiaramente il dolore non è non si può bypassare però era già tutto in quello che ha detto lei in realtà la risposta volevo si sente volevo chiederle a proposito di quelle impronte di cui parlava qual è il peso del ruolo del padre su queste impronte cioè ho compreso benissimo il discorso che ha fatto in relazione alla madre ma volevo chiedere invece che peso può avere il ruolo del padre su quelle impronte di cui parlava lei all'inizio allora intanto sul piano epigenetico quindi puramente diciamo più strettamente biologico anche il padre attraverso lo spermatozoo dà delle impronte di tipo epigenetico oltre ovviamente al DNA che sono in piccoli mRNA sono degli RNA micro mRNA sono gli stessi diciamo che poi sono diventati famosi per i vaccini anti-covid sono dei dei fattori di regolazione di fatto della trascrizione che stanno nella cromio nella testa dello spermatozoico che vengono passati al nascituro insieme a tutta una serie di fattori epigenetici che stanno invece nel citoplasma della cellula uovo e quindi poi ce ne saranno tanti altri che ancora non sono stati scoperti perché ovviamente è comunque una scienza ancora tutta in fieri ma dal punto di vista invece emotivo il padre nei nove mesi di gestazione ha un ruolo fondamentale che si articola però più nella relazione con la madre nel senso che chiaramente nei nove mesi di gestazione l'ambiente il campo è quello del grembo materno ma quanto questo è influenzato dalla relazione che la madre ha con la futura madre ha con il futuro padre e allora lì si legge bene si dovrebbe leggere bene la dinamica tra i generi perché in quel caso c'è una che concresce con il figlio dentro ma l'altro che dovrebbe avvolgerla in un campo sicuro darle la possibilità di posarsi e lasciare che questo miracolo avvenga dovrebbe essere sufficientemente protetta e quello è il grande grande lavoro del padre che in un contesto come quello di oggi perlomeno delle società occidentali di oggi è messo a dura prova perché il maschio è in difficoltà non solo da adesso maschio in difficoltà almeno dal secolo scorso rispetto alla possibilità di incarnare il maschile in una forma che non può più essere quella del padre padrone cioè della figura del maschile autoritario e dominante e non deve chiaramente più esserlo ma non sa come congiungere una dimensione di tenerezza una dimensione di accoglienza di maggiore affettività che molti padri riescono a esprimere al tempo stesso con un potere del maschile che invece fanno fatica a incontrare quindi questo è un grandissimo tema bellissimo tema io credo che in realtà lavorare sulla gestazione o ancora prima sul concepimento e sul preconcepimento quindi dotarci di risorse sociali educative prima che sanitarie rispetto a quella fase della vita sia un atto di salutogenesi importantissimo si può fare salutogenesi di una società lavorando sull'inizio della vita perché vuol dire fare salutogenesi della coppia della famiglia allargata la madre in gravidanza può essere un fulcro rispetto al quale noi andiamo a lavorare sulle fondamenta di una società grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.